c'era tanto entusiasmo attorno al bologna di vincenzo italiano il primo bologna di vincenzo italiano perché dopo l'addio di tiago motta c'era tanta curiosità di vedere questo bologna che aveva cominciato anche molto bene contro questo dinese eppure finisce soltanto 1 a 1 1 a 1 che vede un bologna giocare comunque bene un bologna propositivo che lì davanti vede l'esordio di castro meglio castro dal primo minuto e lui il post zirze anche se poi nel secondo tempo abbiamo visto l'ingresso proprio di dalinga che sarà l'uomo che dovrà ufficialmente sostituire l'ormai attaccante del manchester united eppure l'udinese si è difesa bene ha attaccato poi altrettanto bene nel secondo tempo dove dopo il calcio di rigore sbagliato da toven è stato proprio lautaro giannetti a segnare e su calcio di piazzato sul colpo di test con colpo di testa il gol dell'1 a 1 un po di poca soddisfazione ecco per quanto il rardon bologna che si vedeva già la possibilità di acciuffare questi tre punti in un campionato che fino ad ora ha visto tutte le grandi tutte le big crollare il napoli che ha perso 3 a 0 il milan che pareggia l'inter che pareggia il bologna non è di fatto da meno perché anche lei si ferma su l'1 a 1